l'americano seduto di fronte a lei, nella sua felpa azzura con il cappuccio, che le sorrideva incoraggiante. L'aveva ascoltata con attenzione dall'inizio alla fine, facendo una domanda qua e là, e stringendole per un attimo la mano, quando i ricordi le strozzavano la voce ed era difficile proseguire. Forse, riflette Nelly, a volte era più semplice abbandonarsi alla gentilezza degli estranei. Al contrario della famiglia e degli amici, loro non erano coinvolti in prima persona e non avevano preconcetti, il che rendeva tutto più semplice. Vuoi sapere qual è la mia opinione, chiese Sean? Senza accorgersene, erano passati al tu e d'altronde, se permettevi a qualcuno di guardarti dentro, era anche normale. Nelly appoggiò il mento sul palmo, dimmi, non devi preoccuparti di cose che non sono ancora successe. Don't worry about things that haven't happened. Nelly sorrise. Un'altra cosa che dite nel main? Nope. L'ho letta in un libro bellissimo. La protagonista è una donna che si preoccupa sempre di tutto. La fissò con insistenza. Non va bene Nelly, devi smettere subito. Sean batte l'indice sul tavolo come per sottolineare le proprie parole. Ok, è terribile perdere i genitori quando si è ancora così piccoli, ma non è detto che capiti sempre il peggio. Devi ricominciare ad avere più fiducia nella vita. Il tuo fantastico professore va a questo congresso senza di te. So what? Quando torna? Starete di nuovo insieme. Ma noi non stiamo insieme nemmeno ora, Nelly giocare lava con la forchetta. Allora devi fare qualcosa. Perché non gli dici semplicemente che sei innamorata di lui, eh? Nelly posò con cautela la forchetta accanto al piatto perché iniziò e poi scosse la testa. Non è ancora il momento giusto. Is that so? Sean inarcò le sopracciglia e non era difficile capire cosa pensasse del momento giusto. Sì, voglio aspettare il momento perfetto. La conversazione stava prendendo una piega che a Nelly non piaceva affatto. Iniziò a dimenarsi sulla sedia di saggio, sentendo su di sé le occhiate indulgenti dell'americano. Wow, come preferisci, disse infine Sean. Ma promettimi una cosa. Cosa? Non aspettare il momento perfetto troppo a lungo. Potrebbe non arrivare mai. Nelly si sforzò di ridere. Ovvio, disse prendendo il menù. Non sono mica scema. Jeanne insistette per servire personalmente al loro tavolo la galette du canard e la salade au chevre, anche se l'ordinazione era stata presa da Selin, la cameriera con i capelli neri corti e grandi orecchini che ondeggiavano avanti e indietro. Sean spazzolò di gusto la sua crepe di grano saraceno, con il petto d'anatra, croccante fuori, e di un rosa delicato dentro, giurando che in tutta la sua vita non aveva mai mangiato nulla di così squisito. Incredibile, esclamò a bocca piena. Amo la cucina francese. È un geniale, eh? Potrei ancora avere un po' di vino. S'il vous plait. Jeanne versò il bordone piccoli bicchieri d'acqua e sorrisse lusingata. Allora deve venire più spesso messiero Mali. Oh, lo farò, lo farò. Sean sollevò il bicchiere e brindò alla sua salute. E chiamami pure Sean, noi americani non siamo formali. Jeanne scoppiò in una delle sue sonore risate gutturali. Ok, Sean, in realtà, disse Jeanne, ma se ne accorse solo Nelly. A questo punto dovresti provare anche il dessert. Ti propongo un amuso cioccolà dolce come l'amore. Strizzò l'occhio a Nelly e si allontanò con passo regale per accompagnare a un tavolo che si era appena liberato due clienti in attesa davanti alla porta. Wow, tua cugina è proprio notevole, commentò Sean seguendo Jeanne con uno sguardo di palesa ammirazione. Ti sei mai accorta che è movimentata come una regina? Il vino sembrava avergli sciolto la lingua e Nelly trattenne un sorriso. Si muove come una regina, lo corresse, per quanto è movimentata. Riferito a Jeanne non le sta in brasa e del tutto fuori luogo. Già, ed è piuttosto alta, per questo le piacciono solo gli uomini alti. Nei suoi occhi brillò una luce sarcastica e sonrise. Beve un generoso sorso di vino e si pulì la bocca con il tovagliolo. Yeah, una vera tigresse, mormorò. Jeanne avrebbe sicuramente apprezzato di essere considerata una predatrice, pensò Nelly divertita. Beve anche lei e sentì il bordeaux scivolarle morbido e vellutato sulla lingua. Nonostante, o proprio per il brusio di voci che animava il caffè, era piacevolmente rilassata. Si lasciò trasportare e le sue preoccupazioni sembravano disperdersi in quel mare di parole e pensieri. Era bello conversare con Sean. Sapeva raccontare con grande leggerezza e già da un pezzo chiacchieravano di argomenti che non includevano virile o aeree professori di filosofia. Terminati gli studi di ingegneria, Sean aveva lavorato qualche mese per mettere da parte i soldi per il suo lungo viaggio in Europa e adesso si spostava da una città all'altra, viveva la giornata e quando trovava un posto che lo inculiusiva si fermava. Si era preso un anno sabbatico per visitare i luoghi più belli e dopo Helsinki, Oslo, Londra, Heidelberg e Amsterdam, Parigi, era la sua sesta ma non ultima tappa, come assicurò. Di lì a due giorni sarebbe andato in treno a Marsiglia e poi magari a Barcellona, Madrid e Granada e aveva in programma anche un salto in Italia per visitare Venezia, Firenze e Roma. E te ne vai in giro così? Domandò meravigliata Nelly, raschiando la scura muso cioccolata al fondo della coppetta di ceramica. Lei non ci sarebbe mai riuscita fosse stato anche solo per un anno e in ogni caso non adesso. Dopo la laurea c'era il dottorato e comunque bisognava trovare un lavoro decente prima di pensare ai grandi viaggi. Erano questi i suoi, ammettiamolo, noiosi progetti. Non hai paura di giocarti la carriera? Sean la rassicurò ridendo che no. C'era tempo per correre nella ruota come un concetto. Ora voleva vivere senza schedule, calendari e agende da rispettare. E poi in calzonelli, dopo che succede, hai già un'idea di cosa ti piacerebbe fare nel campo dell'ingegneria. Sai, un po' me ne intendo. E si arrotolò una ciocca di capelli intorno al dito con un'aria trasognata. Ti ho già detto che anche mio padre era ingegnere come mio nonno e mio bisnonno. George Beaufort era un importante ingegnere navale e ha depositato un sacco di brevetti. Mmm, I'm deeply impressed. Una famiglia di inventori e tu studi filosofia. Oh beh, Nelly si strinse nelle spalle. Purtroppo mi manca quel gene. Fece una piccola smorfia. Sono completamente negata per tutto ciò che è tecnico e tecnologico. Ho preso da mia nonna, che pur essendo molto in gamba, non era capace di distinguere le marce della macchina. Nelly ridacchiò al ricordo di Claire che sbucava da dietro l'angolo a tutta velocità con il motore fuori giri perché aveva inserito di nuovo la marcia sbagliata. Dopo la morte di mio nonno è passata al cambio automatico. Era la scelta migliore sia per lei che per la sua povera auto. Quindi tuo nonno era il genere di Big George, dedusse Sean. Esatto, ti va un caffè. Nelly alzò la mano e fece cenno a Celine di portare due petit noir. Poi spiegò che come le aveva raccontato una volta sua nonna, il celebre George Beaufort non avrebbe accettato per la figlia minore un uomo che non fosse almeno ingegnere come lui. E così è stato, concluse. Tu avresti avuto buone possibilità con la mia famiglia Bretton. Nelly continuò a ridere e a scherzare meravigliandosi della sua nuova spigliatezza. Ne prese nota mentalmente. D'ora in avanti avrebbe parlato in quel modo anche con Daniel Beauchamp. Seriamente, mano sul cuore, che progetti hai? Ecco, temo che l'ingegneria navale non faccia per me, mademoiselle. Allora hai in mente qualcos'altro? Oh, yes, yes, sure, rispose vago Sean. Forza, racconta, non tenermi sulle spine, insistette Nelly. Non credo che ti piacerebbe. Nelly gli lancia un occhiato in curiosità. Insomma, non vorrai mica entrare nei servizi segreti, no? Peggio. Sean sospirò appoggiando sul petto il palmo aperto con un gesto di finta disperazione. Mano sul cuore. La guardò dritta negli occhi e soghignò. Voglio diventare pilota di aerei. Quando Nelly si incamminò verso casa, era passata da un pezzo alla mezzanotte. Aveva riflettuto se prendere la metropolitana alla stazione di Mabillon, ma poi aveva deciso di andare a piedi. Faceva freddo. La luna era circondata da un alone verdastro e si preannunciavano giorni di pioggia che presto sarebbero arrivati. Nelly affrettò il passo svoltando in Rue de Four e il leggero tichettare delle Mary Jeanne Blu accompagnava i suoi pensieri come un'allegra melodia. Come fly with me. Nelly disse tra sé e si fermò davanti alla vetrina di un piccolo negozio in cui era esposta alla borsa rossa a un prezzo esorbitante che sognava già da tempo, senza però mai cadere nella tentazione di comprarla. Dopo qualche minuto di rapida contemplazione si constrinse a voltarsi e proseguire per la sua strada. A prescindere dal fatto che Sean l'aveva biecamente pugnalata alle spalle con la sua intenzione di diventare pilota, dalla quale non erano riusciti a dissuaderlo nemmeno gli scenari apocalittici di Virilio, era stata una splendida serata. Avevano risomolto e a un certo punto Jeanne si era seduta al tavolo con loro. Così per qualche ora Nelly non aveva più pensato al congresso a New York al quale non avrebbe partecipato. E poi quando le era tornato in mente per un attimo non era riuscita a capacitarsi di come avesse potuto prendersela così tanto. In fondo non era successo nulla. E a patto che il professor Beauchamp tornasse sano e salvo a Parigi e non precipitasse nell'Atlantico, eventualità che dando credito alle assicurazioni del futuro pilota era da escludere, niente era perduto. Dopo aver ripetutamente promesso che prima di partire sarebbe tornato di nuovo ad all'esamide Jeanne per mangiare le fantastiche torte di Pire e fare qualche altro complimento ai begli occhi della titolare, Madame la Tigresse, Sean si era messo in spalla la custodia con la chitarra e aveva salutato le due donne baciandole sulle guance davanti all'ingresso del caffè. Mentre Jeanne rientrava per preparare il conto agli ultimi clienti, Nelly aveva seguito con lo sguardo l'alto americano biondo del Maine che si allontanava ai grandi passi lungo il rio dei Bussi, pronto a gettarsi in nuove avventure e aveva pensato che tutto sommato le dispiaceva un po' sapere che non l'avrebbe più rivisto. «Take care, vedrai che andrà bene con il professor volante», le aveva susurrato Sean al momento dei saluti. Nelly sorrise, il professore volante, le piaceva quella definizione, quando poco dopo entrò nel grande portone dell'antico palazzo in Rio de Varenne, salì le scale e tirò fuori le chiave dell'appartamento. Non immaginava che la sua previsione e quella di Sean si sarebbero rivelate entrambe sbagliate. Il destino, come spesso accade, aveva altri piani.